Una decina di giovanissimi carcerati dell'istituto penitenziario minorile Malaspina di Palermo nella tarda serata di ieri si sono barricati per alcune ore nella sala comune per protestare contro le condizioni del carcere. Poco prima dell'una di notte i ragazzi hanno riaperto la stanza in cui si erano chiusi e sono tornati pacificamente nelle loro celle. I giovani detenuti rivendicano più permessi acqua calda e cibo migliore, un fatto che riporta alla ribalta la situazione di tensione vissuta nelle carceri palermitane. Il deputato del PD all'Assemblea regionale siciliana Pino Apprendi stamattina si è recato al carcere per capire dai vicino cosa sta succedendo all'interno dell'istituto penitenziario. Apprendi recentemente ha presentato un'interpellanza per fare il punto della situazione delle carceri siciliane. L'allarme che volevamo lanciare è anche un altro che il carcere è un posto per giovani perché oltre il 60% dei detenuti è sotto i 40 anni. Questa è una cosa che consideriamo da attenzionare perché esprime un disagio generale della nostra società e che fa il paio con il fatto che moltissimi giovani sono disoccupati. quindi credo che la regione abbia compiti essenziali, non primari ma essenziali.